Quando una persona è innamorata, le dicono che è innamorato perso, innamorato pazzo. È curioso questo modo di rivolgersi agli innamorati e ti dovrebbe far riflettere. Innamorato pazzo. Pazzo significa che la mente è fuori. Sei fastidio, sei fuori. Sei fuori, fuori dalla mente, fuori dalla normalità delle cose. Perché l'amore non è razionale. L'amore è totalmente irrazionale. Il cuore non è razionale, il cuore non è intelligente. E quindi le persone vogliono avvicinarsi al cuore in maniera razionale. Ma non è così che funziona. Non funziona così. Ti avvicini al cuore facendo cose stupide. Cose prive di senso. Che non hanno senso, non hanno logica. Il cuore non è logico. Devi abbandonare la logica. Devi abbandonare tutto ciò che conosci. se vuoi entrare nel cammino dell'amore incondizionato. E ne hai delle prove nella tua mondanità. Quando ti dicono sei innamorato perso. Sì, sono innamorato perso. 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 Perso la logica. La razionalità. Nella follia del cuore. Sì. Sì.